buongiorno a tutti e benvenuti a tutti i partecipanti a questo convegno intitolato personal digital memories i fondi di persona dall analogico al digitale che si tiene nella forma quasi esclusivamente online in realtà in presenza siamo 45 persone qui nella sala conferenze del dipartimento di beni culturali dell'università di bologna sede di ravenna il convegno come avete potuto vedere vedere dalla locandina è organizzato dal dipartimento di beni culturali dal centro personal digital memories è costituito sempre presso il dipartimento di cui poi parlerò domani pomeriggio e dal laboratorio universitario documentazione di informazione sempre dell'università degli studi di bologna è un convegno che intende affrontare il tema urgente direi della conservazione delle memorie personali che come vedremo nel corso del convegno si stanno trasformando anzi direi che si sono già trasformate in memorie digitali l'obiettivo del convegno di stimolare una prima riflessione di un confronto a livello nazionale su questa particolare categoria di fondi che rispetto ad altri ricevono tradizionalmente un'attenzione inferiore e certamente non commisurata alla loro importanza e che nella transizione al digitale rischiano di ridursi o in alcuni casi di scomparire del tutto con conseguenze che sono estremamente gravi per tutta una serie di settori scientifici disciplinari il convegno si colloca idealmente a distanza di 30 anni dal memorabile convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie di persone che si tenne ormai nel lontano 1991 esattamente dal 9 al 13 settembre di quell'anno a Capri quindi con queste due giornate cercheremo di fare il punto della situazione su questi temi che sono senza dubbio di interesse non solo per le istituzioni culturali ma anche per le persone comuni prima di lasciare la parola per i saluti iniziali permettetemi di dare qualche informazione di servizio è obbligatoria intanto in molti ci hanno chiesto di registrare e rendere successivamente disponibili le registrazioni quindi sono arrivate parecchie richieste e ci siamo ovviamente sentiti in dovere di accettarle quindi informo tutti i presenti che il convegno sarà registrato e successivamente verrà reso disponibile sul sito del dipartimento di beni culturali per cui chi non volesse essere ripreso mi riferisco in modo particolare al pubblico presente quindi ai partecipanti non diciamo ai relatori è pregato di mantenere la webcam spenta ed eventualmente di comunicare la sua volontà di non essere incluso nella registrazione che verrà resa successivamente disponibile a questo punto lascio la parola per i saluti iniziali cominciando da nicoletta guidobaldi in rappresentanza delle direttore del dipartimento delle beni culturali parlo di saluto da parte del direttore del nostro dipartimento professore luigi canetti che è sfortunatamente impegnato di una riunione straordinaria del senato accademico che è stata convocata fra l'altro d'urgenza con pochissimo eh preavviso però mi fa particolarmente piacere essere qui in in persona non solo in questa veste istituzionale ma eh anche in qualità di studiosa devo dire ho apprezzato moltissimo mi sembra veramente un un argomento di di grandissimo interesse quello che è stato scelto da da Stefano Allegrezza e che è stato poi preparato dal comitato scientifico per la discussione appunto che si svolgerà nel corso di queste due giornate in questo convegno e dicevo appunto anche in qualità di di studiosa storia sono una storica della musica semplicemente ma credo che ehm la la questione della eh delle prospettive di questi fondi eh di persona e nella fase appunto di eh passaggio dal dal sistema analogico digitale che poi l'oggetto appunto che verrà sviluppato nelle quattro sessioni del del convegno non possa non interpellare non solo gli specialisti gli archivisti gli storici coloro che hanno già dedicato ampiamente eh sia dal punto di vista teorico che che pratico riflessioni e considerazioni sull'argomento ma eh chiunque come me per dire sono eh un po' eh esterna ma sono sinceramente eh colpita dalla gravità diciamo dalla serietà della della situazione che eh qui verrà eh affrontata e eh spero anche fra l'altro che nella sessione dedicata alle prospettive e alle eh possibili contromisure diciamo da mettere in atto per eh evitare quello che sembra essere un destino abbastanza drammatico di perdita e addirittura di scomparsa in alcuni parti in alcuni casi di gran parte della 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 documentazione appunto eh e della memoria storica insomma diversi livelli eh conservata e archiviata altrimenti ci ci prospetta e devo dire dicevo appunto che anche in qualità di di studiosa ma di di membro semplicemente del del dipartimento che è costituito da una comunità ampiamente interdisciplinare particolarmente interessata da tanti punti di vista e a partire da tanti diversi eh ambiti di ricerca e settori disciplinari all'argomento veramente centrale credo eh anche da un punto di vista mi verrebbe da dire civile civico cioè ci ci interroga credo la la questione di questo convegno su eh sul senso della memoria e e insomma sulle possibili e speriamo evitabili trasformazioni anche antropologiche del del senso del dell'eredità culturale ma anche personale per l'appunto e mh devo dire che e ricordo soltanto ma eh naturalmente poi non non sta a me entrare nel merito degli argomenti del convegno che il 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 convegno come come Stefano appena ricordato è eh in un certo senso il frutto è la manifestazione eh più visibile diciamo di un di un percorso di ricerca e di una serie di attività che sono state svolte per l'appunto eh ormai da da alcuni anni e nell'ambito del centro di ricerca personal digital memories appunto che è stato già riconosciuto ufficialmente integrato fra le articolazioni del eh nostro dipartimento già nel duemiladiciannove e e che a sua volta per l'appunto eh è un po' un un centro di elaborazione di riflessioni di eh attività eh di varia natura fra cui appunto anche alcuni incontri di studio che si sono tenuti negli anni scorsi e forse questo che per l'appunto rappresenta nello stesso tempo un punto della situazione intende fare lo status questioni si interpellando non solo eh i i membri del dipartimento ma tanti illustri specialisti e eh eh studiosi eh che appunto nell'arco delle quattro sessioni di eh questo convegno si 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 alterneranno e mh il centro stesso eh il centro personal digital memori appunto verrà poi presentato in maniera articolata eh nella sessione nella seconda parte del convegno quindi nella sessione di eh domani che sarà dedicata per l'appunto anche a ipotesi prospettive appunto quindi forse ehm mi interesserà molto appunto sapere non so a livello anche personale sapere non solo quali siano le eh direzioni e le ipotesi diciamo prospettate da eh da questo centro ma appunto non sta minimamente a me adesso entrare nel nel vivo del del convegno che è estremamente ricco articolato densissimo quindi non non sottraggo assolutamente tempo alle presentazioni dei dei vari eh partecipanti e semplicemente eh auguro eh a nome del direttore del di tutta la comunità del del nostro dipartimento un buonissimo lavoro e a tutti voi e e spero poi di che appunto i risultati possano essere anzi credo che sia già fra le premesse possano essere anche presto eh pubblicati quindi di nuovo benvenuti a tutti a nome del direttore Luigi Canetti e buon lavoro grazie 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 Nicoletta queste belle parole e passo subito la parola a Andrea Di Pasquale sovrintendente dell'archivio centrale dello Stato prego Andrea Buon pomeriggio a tutti ringrazio innanzitutto gli organizzatori del convegno in particolare il professore Allegrezza i membri del comitato scientifico eh per l'invita a partecipare a questa importante iniziativa di oggi l'archivio centrale dello Stato come sapete ha il compito di conservare e valorizzare i documenti prodotti dagli organi centrali dello Stato dalla presidenza del Consiglio dai ministeri dagli organi giudiziari consultivi ma insieme a tale documentazione ospita archivi anche di enti pubblici e di società di rilievo nazionale oltre a numerosi archivi di famiglia eh di persone che hanno svolto un ruolo eminente nella pubblica amministrazione nella politica e nella cultura questa mh questa tipologia di archivi è quanto di più vario possa immaginarsi ehm il tratto che ha caratterizzato la vita del settore che se ne occupa in quest'ultimo decennio è stata quella di un duplice arricchimento eh da un lato il numero si è quasi raddoppiato basti pensare che la voce ehm elaborata per la guida generale degli archivi di Stato italiana indicava nel millenovecentosettantotto solo centoquattro archivi di personalità e quattro miscellane di documenti personali conservati nel millenovecentonovantuno si arrivava a centosessanta fondi archivistici ad oggi gli archivi di famiglie di persone sono oltre trecento e dall'altro canto eh osserviamo che si è enormemente diversificata la varietà degli archivi acquisiti e accanto alle carte degli statisti che con la loro azione di governo hanno caratterizzato l'esperienza storica del paese eh citiamo ad esempio le carte di Crispi, di Gioliti, di Vittorio Emanuele Orlando e di altre personalità eh del periodo del regime fascista compaiono oggi archivi di storici dell'arte, di diplomatici, di archeologi, di giornalisti, di giuristi, di letterati e scrittori, di artisti, di finanzieri e di mecenati. Ciascuno col proprio rilievo storico, con le proprie specifiche particolarità umane, intellettuali e sociali che vanno a ricomporsi nel grande affresco formato dalla quantità del complesso degli archivi di personalità custoditi all'archivio centrale. All'interno di questo vasto ambito si collocano anche gli archivi di architettura in posizione eminente al centro di un vasto reticolo che li lega non solo agli altri fondi personali ma ehm anche ad altre serie archivistiche di natura istituzionale. Attualmente gli archivi rispecchiano le moltiplici attività di architetti e di ingegneri e sono oltre una cinquantina, un numero significativo, forse la più grande concentrazione del genere in Italia che fa dell'archivio centrale dello Stato uno dei luoghi di riferimento per gli studi e ricerche sull'architettura contemporanea. In più l'archivio centrale dello Stato si appresta a ricevere altre donazioni anche di archivi ibridi e si sta attrezzando pure per la recezione di archivi anche eh nativi digitali nell'ambito delle attività previste dal PNRR per la costruzione del polo di conservazione. E il convenio di oggi è quindi per noi di estremo interesse e di grande attualità e sono convinto che offrirà spunti e prospettive eh di primaria importanza. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie alle sovrintendente della CS e passo subito la parola a Luigi Tomassini eh in rappresentanza della Società Italiana di Studi sulla Fotografia. Luigi a te la parola. Grazie. Grazie a nome anche della Società Italiana appunto per gli studi sulla fotografia che è una società eh scientifica che raccoglie studiosi di eh variatissime discipline perché la fotografia è un oggetto naturalmente polisemico e eh pubblica direttamente nel senso del proprietario della testata di una rivista classificata come classificata come classe A nel settore di arte contemporanea e di sociologia della comunicazione ma come rivista scientifica anche nel in altri settori tra cui Mesto 08. Quindi eh raggruppa eh studiosi appunto di eh varie eh discipline e ha collaborato devo dire già in precedenza a più riprese con il dipartimento di beni culturali e eh da po' sono stati pubblicati gli atti di un convegno tenuto proprio in collaborazione presso il eh dipartimento di beni eh culturali atti curati da Stefano Allegrezza e Raffaella Biscioni per cui risponderei una porta aperta che in si stessi su eh l'opportunità di questa eh collaborazione quindi spendo solo eh posso solo eh sperare e contare sul fatto che eh continui vorrei un pochino contestualizzare eh solamente un po' eh da storico come invece io eh sono storico contemporaneista questa attenzione del mondo del mondo degli archivi verso la eh fotografia. Io fui molto colpito a eh suo tempo quando alcuni decenni fa lessi eh una eh affermazione di Ponian, Christof Ponian che tutti eh conoscerete che diceva che nella nostra civiltà che ormai si definiva già come eh civiltà eh dell'immagine una nuova eh memoria collettiva oggettivata in forme di immagini si sovrappone alla vecchia memoria scritta come questa si era eh sovrapposta alla ancora più antica memoria orale eh quando lessi per la prima volta questa mh affermazione pur condividendola mi sembrava un po' eh esagerata forse per eh il tempo invece in questi ultimi decenni la eh espansione della eh comunicazione per immagini e quindi anche eh della presenza delle immagini degli archivi è diventata sempre più eh ampia, più forte e più eh per già diversi studiosi nei convegni eh precedenti eh avevano notato come eh convegni intendo sugli archivi eh fotografici diciamo avvicinata a Mipalla con lei perizzo di Bari eh studiando ogni tecversi eh l'archivio familiare eh si accorse e eh portò appunto questa testimonianza che via 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 che si avvicinava agli ordinosti l'archivio precedentemente esclusivamente eh scritto di documenti scritti invece si arriscita sempre più di eh immagini. Cosa significa eh questo? Significa che eh gli archivi di eh persona, gli archivi che eh gli archivi di immagini che una volta rientravano dentro gli archivi personali di persona eh in realtà riguardavano solo eh le eh classi più elevate cioè non esisteva una eh possibilità per eh le eh la gran parte della popolazione di avere eh già era difficile avere eh degli archivi scritti ma degli archivi di immagini era già difficile anche dopo i primi decenni della eh fotografia era una pratica abbastanza eh limitata. Eh solo eh con lo sviluppo eh impetuoso della fotografia dalla fine dell'ottocento ai eh giorni nostri eh questo eh situazione è cambiata eh assolutamente e eh adesso la eh fotografia, le immagini eh fotografiche, quelle derivate dai processi fotografici come le immagini cinematografiche e televisive hanno preso appunto questa eh ampiezza eh enorme anche proprio nel in quella che eh chiamiamo fotografia vernaculari cioè la fotografia della vita quotidiana di tutti i giorni quindi delle persone eh anche eh al di là di ogni barriera eh sociale e eh culturale. Quindi eh il problema dell'archiviazione di eh della presenza diciamo delle fotografie dentro eh gli archivi di persona, gli archivi eh personali eh è qualcosa che eh diventa non solo un elemento di fatto di una eh presenza oggettiva ma anche indica una eh tendenza indica un problema perché noi studiosi della fotografia ci eh interroghiamo adesso sul fatto che eh la fotografia cioè eh l'iniziale significato della fotografia come scrittura sulla eh della luce quindi come iscrizione e eh se uno segue un po' quello che dicono i filosofi come eh Ferraris fa il passaggio immediato dal dal livello di iscrizione al livello di oggetto fotografico come eh oggetto che resta che conserva la memoria e eh che quindi eh la eh trasmette eh successivamente diventando come dice appunto Ferraris un eh fatto sociale questo eh in questa natura della fotografia come eh iscrizione come eh elemento di per sé legato alla memoria e quindi all'archiviazione nel momento in cui viene eh conservato tende a sparire perché eh adesso siamo di fronte ad un uso come dicono alcuni eh studiosi conversazionale della fotografia cioè la fotografia si avvia anch'essa verso una qualche forma di nuova oralità nel senso che eh esistono eh fotografie che vengono eh scattate con una funzione di eh eh uso immediato e a volte addirittura con tutte le tecniche che ne permettono la distruzione eh immediata. Quindi direi si tratta per noi eh questo aspetto degli archivi eh personali è veramente interessantissimo e eh credo che eh questo eh questo convegno per questo interesse anche il nostro punto di vista come immagino questo punto di vista interesse anche a voi. Auguro quindi a tutti eh un eh buon lavoro. Grazie. Grazie a te Luigi. Poi ti ritroveremo domani pomeriggio come moderatore di una sessione così come ritroveremo fra poco anche Andrea De Pasquale. Prima mi siamo dimenticato di dirlo con una relazione nella seconda sessione di questo pomeriggio. E passo la parola adesso a Federico Valacchi presidente dell'Aidusa che è l'associazione italiana docente universitario di scienze archivistiche. A te la parola Federico. Grazie Stefano. Eh porto davvero volentieri i saluti miei personali e di Aidusa eh a questo convegno e mi congratulo eh per un'iniziativa che come già stato detto e come ripeterò tra un attimo mi sembra eh vada a come dire a colpire un bersaglio importante. Quindi grazie agli organizzatori a tutti coloro che hanno reso possibile questo convegno e naturalmente un saluto a tutti gli amici ai colleghi che poi eh durante eh i lavori svilupperanno il tema. Un tema che eh non lo scopro certo io ed è già stato detto è un tema di di grande attualità e di urgenza anche perché eh io credo che proprio negli archivi di persona eh il problema della conservazione digitale in qualche modo mostra la sua faccia più cattiva. Eh questi archivi sono da sempre del resto i più esposti eh ad una percezione bassa della loro stessa esistenza no? E sono forse anche i più eh influenzati dalle vicende della conservazione. Eh del resto sono appunto archivi di persona e quindi sono vulnerabili non solo tecnicamente eh ma soprattutto rispetto alla alla sensibilità e vorrei dire alla alla volubilità no? Degli individui di quelli che poi potremmo chiamare i soggetti produttori. Eh anche in questo caso come come molte altre occasioni eh il digitale eh interviene come acceleratore no? Di determinati processi e mette a nudo spesso senza vietà eh il rapporto che noi abbiamo con con gli archivi e con la rappresentazione che di questi archivi eh possiamo dare. Quindi il digitale non è eh come dire né una riattura né eh di bene assoluto è una dimensione strumentale che però insomma influenza il nostro modo di percepire di 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 rappresentare e di utilizzare eh gli archivi e la realtà stessa. Eh allora in questo senso eh torna l'importanza di una iniziativa eh come quella che stiamo introducendo perché gli archivi di persona mi sembrano eh per quello che ho detto una palestra anche metodologica eh eccellente eh proprio per testare magari anche per raffinare i nostri esercizi conservativi nel soprattutto nel quadro digitale e anche per definire forse ridefinire per concettualizzare forse riconcettualizzare eh le strategie da adottare per arrivare davvero ad una percezione che sia in qualche modo aumentata eh di questi fondi proprio nel momento in cui il digitale sembrerebbe metterne come dire a rischio la la percezione stessa come dicevo eh questi eh sono fondi fondi archivistici che oltretutto rappresentano molto bene questa idea eh sempre più diffusa sempre più acclarata di archivio allargato no? In qualche modo anche Luigi un attimo fa alludeva a queste tematiche. Un archivio allargato se non addirittura un archivio eh liberato da 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 determinati vincoli che appunto forse possiamo pensare di di tornare a negoziare. Sono archivi che quindi ci ci sfidano eh non solo sul piano della percezione ma proprio sul piano della della loro descrizione, del loro uso, della loro eh eh fruibilità. Quindi credo che ci sarà da da imparare molto eh da quello che sentiremo e eh torno a portare il mio saluto augurando a tutti un un buon lavoro. Grazie Federico e passo la parola per l'ultimo dei saluti a Francesca Gherzetti coordinatore dell'IB Commissione Nazionale Biblioteche Speciali Archivi Biblioteche d'Autore. Francesca a te la parola. Grazie Stefano ehm con grande piacere porto i saluti a nome della Commissione Nazionale AID che è facilmente intuibile dalla denominazione stessa a un profondo interesse per il tema delle memorie personali nel loro senso più ampio e accogliente. E significativo a questo proposito è stato un cambio di denominazione che ha formalizzato una naturale evoluzione nell'ambito dell'AID da un gruppo di lavoro sulle biblioteche d'autore attivo dal 2003 al 2011 a una Commissione Nazionale Biblioteche e Archivi d'Autore cui ha naturalmente corrisposto nella sua composizione la presenza di entrambe le professionalità. Sulle memorie personali c'è dunque un interesse profondo positivamente dilagante e a tratti prorompenti ma non esclusivo e con un continuo incrocio che però dobbiamo ancora sistematicamente esplorare con l'universo variegato delle biblioteche come istituzioni speciali che è l'altra metà della Commissione. Speciale è una qualificazione che dice tutto e niente ma di cui per necessità di sintesi e inclusività noi continuiamo a fare tutto. Come Commissione di un'associazione professionale cerchiamo sempre innanzitutto di comprendere le esigenze e le problematiche con cui si confrontano o scontrano i colleghi che quotidianamente lavorano con l'obiettivo del miglior servizio possibile al pubblico e di fornire risposte e strumenti di lavoro utili in questo senso. Ricordiamo quanti archivi personali e biblioteche personali sono presenti nel tessuto ricchissimo delle biblioteche pubbliche e private in Italia. Oltre a questo presidio professionale riteniamo che sia fondamentale lavorare per presidiare anche culturalmente nel nostro lavoro quotidiano gli aspetti della tutela e della valorizzazione dei fondi personali come beni comuni su cui esercitare in modo diverso rispetto al ruolo di vigilanza delle istituzioni pubbliche competenti una funzione di sensibilizzazione allargata per aumentare la consapevolezza dell'importanza che queste memorie personali hanno come fonti per la storia e di cui è necessario dunque e particolarmente ora prendersi adeguata cura. E questo dunque la Commissione ha cercato di fare organizzando incontri pubblici di sensibilizzazione e monitoraggio sulla realtà di questi patrimoni ed elaborando una bibliografia tematica e delle linee guida di lavoro che possano aiutare i professionisti a inquadrare la mappa dei problemi e orientare il proprio lavoro. Per la Commissione si tratta di un percorso intrapreso e che ha visto coinvolti a vario titolo più di qualcuno dei relatori di questo convegno e cito solo Ann'Antonia Martorana, Fiamme Casabba che hanno fatto attivamente parte della Commissione fino al mandato scorso e che auspichiamo possa proseguire con un'idea di rete, di collaborazioni e alleanze quanto mai necessarie alla luce della complessità delle memorie personali su cui convergono tutti i temi possibili della filiera dalla tutela alla valorizzazione dei beni culturali, ciascuno dei quali esige però approfondimenti specifici e aggiornati. E dunque anche se non sta a me a dirlo e lo hanno detto decisamente meglio i relatori che mi hanno preceduto, mi pare doveroso ribadire che il tema di questo convegno sul tema degli approfondimenti e dei carotati è particolarmente complesso, è particolarmente urgente perché se è complesso per definizione l'ambito digitale lo è ancora di più quello dell'area di passaggio dall'analogico al digitale e delle loro forme di inevitabile e oserei dire auspicabile convivenza. Mi associo dunque alle espressioni di apprezzamento e di plauso di chi mi ha preceduto nei confronti dei responsabili e degli organizzatori di questo ribadisco necessario convegno, esprimendo anche un senso di gratitudine a nome dei tanti colleghi che troveranno sicuramente spunti di riflessione, supporto scientifico e supporto concreto per il proprio lavoro. Grazie ancora. Benissimo, grazie a te Francesca per queste parole. Passerei a questo punto, comincerei con la prima sessione. Prima di cominciare però vorrei ricordare ai partecipanti che possono porre eventuali domande o utilizzando la chat o eventualmente c'è uno spazio domande intorno alla fine di ciascuna sessione quindi volendo, se c'è la possibilità anche di porle diciamo in prima persona, alzando la mano che trovate in basso nella schermata di zoom. Quindi avete due possibilità in buona sostanza. Detto questo passo subito la parola al moderatore della prima sessione, Andrea Giorgi, Università degli Studi di Trento. Andrea, a te la parola. Grazie Stefano, mi senti? Perfettamente. Benissimo, allora io innanzitutto ringrazio te e anche gli altri organizzatori per aver dato luogo a questa occasione di discussioni e riflessioni. In particolare, riflessioni introduttive e problemi teorici sono l'argomento della prima parte di cui adesso andiamo ad aprire la prima sessione. Per me presentare le persone che andranno a parlare, i colleghi che andranno a parlare è relativamente semplice perché sono colleghi che non hanno bisogno di presentazione, di Noroncaglia, Stefano Vitali, Fiammetta Sabba e abbiamo sentito adesso nominare assieme a lei anche Anna Antonia Martorano che purtroppo non può essere con noi per motivi indipendenti della sua volontà e ve la salutiamo e speriamo quanto prima di averla tra noi con le cose interessanti che avrebbero avuto da dirci. Io non metto tempo in mezzo e vado subito a dare la parola al primo dei relatori che ricordo, mi è anche necessario questo tipo di riferimento, hanno 20 minuti a disposizione, non toglierò il microfono dopo 20 minuti, li invito semplicemente però a ricordare, è un tempo medio diciamo di 20 minuti, il primo dicevo Gino Roncaglia che è docente di editoria digitale, digital humanities e molte altre cose, devo dire, presso l'Università degli Studi Roma 3, quindi Gino se vuoi iniziare il tuo intervento che ha, ricordo il titolo, Memorie personali ed ecosistema di rete. Prego, ti lascio la parola. Grazie, grazie per l'introduzione, grazie agli organizzatori per l'invito. Io proverò nel tempo che ho a fare un quadro molto sintetico di rassegna di alcune tematiche legate appunto al tema delle memorie personali nell'ecosistema digitale, affrontandolo non solo e non tanto forse dal punto di vista storico archivistico, quanto anche da un punto di vista filosofico ed epistemologico, perché ricordiamo che il tema della nostra memoria è una parte importante della nostra identità e quando parliamo di memorie personali parliamo quindi di una parte importante della nostra identità personale. Oggi questa esternalizzazione della memoria nell'ecosistema digitale naturalmente ha delle conseguenze molto importanti anche nel modo in cui noi guardiamo a noi stessi e a noi stessi come persone. Un suggerimento di servizio, nella schermata di zoom in alto a destra avete il pulsante vista, se per caso non foste con la vista diciamo con il relatore ingrandito suggerisco di passare alla vista oratore o vista relatore perché userò dei contenuti direttamente nel mio schermo e quindi per poterli leggere probabilmente se convergente averlo in dimensione più grande. Partirei subito da una distinzione di quattro situazioni possibili che in un certo senso corrispondono anche un pochino a quattro fasi di sviluppo storico in cui abbiamo lavorato e lavoriamo con contenuti digitali legati appunto alle memorie personali. Il primo ambito, scusate, il primo ambito è quello della digitalizzazione di archivi di persone, quindi di memorie personali che sono di tipologie su supporti tradizionali, dai diari alle lettere, alle fotografie, alle registrazioni audio e video. Ecco, sappiamo che la digitalizzazione di queste tipologie di fondi è un lavoro che oggi impegna tantissimi progetti, sicuramente molti saranno anche in qualche forma richiamati o illustrati qui e questa è un po' un primo stadio, diciamo, una prima fase e un settore in cui c'è moltissimo lavoro. C'è poi l'ambito ampio delle memorie nativamente digitali, delle memorie personali nativamente digitali e anche se i confini sono sempre sfumati, possiamo forse distinguere delle memorie personali nativamente digitali che riprendono in qualche modo modelli, tipologie di documentazione che esisteva anche in ambito analogico e tipologie invece di documenti, di tracce personali nuove per fare solo qualche esempio, ma se ne potrebbero fare tantissimi, file legati ad oggetti documentali appunto di tipo nuovo, per esempio messaggistica personale, dei post sui social network, i dati medici, le voci dei calendari o delle rubriche nei vari smartphone e computer, le playlist musicali e veramente le tipologie sono tantissime, i dati di geolocalizzazione e così via. Questa esplosione sia in termini di tipologie, sia come vedremo anche in termini quantitativi, pone infine un tema generale che credo non possa essere eluso che quello che vede oggi una trasformazione in qualche modo in molte situazioni in veri e propri big data delle memorie personali, cioè ci sono molte situazioni in cui la quantità dei dati e del materiale fa sì che abbiamo a che fare veramente con ambito di big data. Partirei rapidamente in questa rassegna dalla prima situazione, quella in cui si lavora la digitalizzazione di archivi di persone, di materiali più tradizionali. Visto che parliamo di memorie personali, mi sono trovato a lavorare in questi ultimi mesi sull'archivio di mio nonno che era musicista e sono, come vedete, dei documenti, dei materiali del tutto tradizionali che sono stati digitalizzati, il nonno appunto era musicologo e ci sono materiali anche curiosi. Adesso questo fondo è andato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e, per esempio, bigliettini di Verdi che avevano tutte le annotazioni tipiche. Il nonno aveva studiato Verdi, quindi aveva fatto tutta, aveva quasi un culto di Verdi e quindi il bigliettino di Verdi che era stato mandato al bisnonno, c'è tutta l'annotazione del nonno che ne ricostruisce la storia. Ci sono bigliettini, lettere di Puccini e nonno annotava che questo, per esempio, è l'ultimo biglietto ricevuto da Puccini due mesi prima della morte. Materiali, come vedete, del tutto tradizionali, ma già il fatto di digitalizzarli, già il fatto di utilizzarli in una presentazione come questa ci fa riflettere su un fatto che va sempre tenuto presente anche quando parliamo di digitalizzazione di documenti tradizionali, cioè che non stiamo facendo semplicemente un'operazione di digitalizzazione, ma l'operazione di digitalizzazione è anche un'operazione di rimediazione, per prendere in prestito un termine ben noto di Bolter, che trasforma in qualche modo anche l'oggetto di cui si parla, che diventa un oggetto con una possibilità di uso e di riuso nuovo. Si possono costruire appunto collezioni virtuali, situazioni di mess up e per fare solo un esempio tra i tanti che si potrebbero fare, pensiamo per esempio alle 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 memorie dei luoghi che vengono ricostruite molto spesso mettendo insieme materiali che sono legati a memorie personali. Ci sono tanti progetti in questo campo, ricordo una bella relazione qualche tempo fa di Sergio Noiré che ne passava in rassegna tanti, ne richiamo solo uno per dare un'idea, quando si lavora come in questo progetto sulla foto di luoghi, sotto c'è la foto attuale, sopra c'è la foto storica e le due foto vengono in qualche modo unite, fuse in qualcosa che è un oggetto documentale di tipo diverso e di tipo nuovo evidentemente. Ecco, progetti di questo tipo sono progetti che in qualche modo mettono insieme fondi tradizionali digitalizzati, fondi fotografici in questo caso digitalizzati, ma anche foto presumibilmente nativamente digitali del luogo oggi e il digitale usato anche come strumento di lavoro per produrre queste nuove tipologie di oggetti documentali. Faccio riferimento anche a un altro progetto che io trovo molto interessante, se qualcuno o qualcuno non conosce il progetto Memo Film c'è un bel libro Mimesis che lo riassume, ed è un lavoro sostanzialmente di produzione di documentari, brevi documentari di 20-25 minuti, partendo da materiali in genere abbastanza tradizionali, fotografie, film, anche documenti che costruiscono una solita di mini documentario personale, l'hanno chiamato Memo Film, per persone anziane che hanno problemi di demenziazione senile, di Alzheimer. Questi Memo Film costruiti, capite che è facile oggi costruirli in digitale, naturalmente questo è un lavoro che si poteva fare anche fuori dall'ecosistema digitale, ma in maniera estremamente più complicata. Il fatto di costruire questa sorta di mini documentari personali, che diventano anche strumenti terapeutici, perché vengono mostrati ogni mattina ai malati e in qualche modo rafforzano, ricostruiscono un po' un senso di identità personale e quindi rallentano, diminuiscono un po' gli effetti della malattia o li rallentano, il libro è veramente affascinante sia nella tipologia dei casi, sia anche nello spiegare quanto importanti siano questi strumenti per cercare di mantenere un'identità personale in chi progressivamente perde le memorie. Anche questo ci dà un'idea del fatto che questi oggetti, una volta digitalizzati, diventano anche qualcosa di nuovo che può essere utilizzato in contesti diversi. Poi naturalmente abbiamo cominciato a produrre contenuti nativamente digitali, memorie personali che sono nativamente digitali e anche qui, anche se il modello è apparentemente lo stesso, pensiamo per esempio alle fotografie, l'ecosistema digitale cambia non solo le modalità e le possibilità d'uso ma in qualche modo anche la natura dei contenuti. Questo è stato abbondantemente studiato per esempio per quello che riguarda la fotografia. Sappiamo, ci sono state, ricordo degli articoli interessanti di Roberto Casati già all'inizio degli anni 2000 su queste tematiche, come la disponibilità di uno smartphone che permette di fare fotografie e quindi sostanzialmente di una macchina fotografica che abbiamo sempre con noi, in cui la fotografia fatta che non funziona si può cancellare, in cui la memoria a disposizione è virtualmente enorme e quindi non c'è il problema dell'uso della pellicola, provochi una sorta di inflazione degli scatti, una moltiplicazione degli scatti, una moltiplicazione quindi delle immagini prodotte che oggi sono anche immediatamente condivisibili in rete. È chiaro che queste possibilità in qualche modo cambiano anche la natura degli oggetti documentali. L'inflazione della documentazione fotografica fa sì che ciascuno e ciascuno di noi oggi abbia, probabilmente capita a molti e a molti, che la mattina il telefonino ricorda con una schermata e permette di navigare questa stessa giornata un anno fa, due anni fa, cinque anni fa e ci dà un'idea di quanto sia ricca questa produzione di personale di immagini. Vorrei a questo proposito ricordare una discussione e una riflessione, forse qualcuno o qualcuno delle persone un po' più che hanno più vicine alla mia età si ricorderà questo articolo del New Yorker del 1997, che discuteva una figura curiosa, quella di Nathan Mirvold, uno degli ingegneri Microsoft, uno dei principali consiglieri di Bill Gates alla Microsoft. Mirvold aveva scritto nel 1993 una relazione, un memo che è rimasto famoso e che è spesso citato quando si parla di queste tematiche, che in qualche modo prefigurava scenari di sviluppo dell'ecosistema digitale. È abbastanza curioso riflettere su questo documento oggi, quasi trent'anni di distanza, perché per alcuni versi, e lo sappiamo, per esempio la Microsoft aveva completamente sottovalutato, e anche Mirvold in questo documento ha completamente sottovalutato lo sviluppo della rete, lo sviluppo del web, pur essendo nel 1993 già si potesse in qualche modo intuire. Ma su altri versanti, proprio quello delle memorie personali, che era una delle, in qualche misura direi anche ossessioni personali di Mirvold, c'erano riflessioni che sono quasi profetiche per certi versi. Qui si parla dell'audio e del fatto che da essere, dall'idea verbavolant dell'audio come qualcosa di effimero, c'è oggi una possibilità di registrazione di testimonianze audio enormi e soprattutto il video. Se leggiamo questo passo, quanto tempo ci vorrà prima che ogni macchina della polizia, ogni poliziotto, sarà equipaggiato con una videocamera digitale, con la marcatura dell'ora e del luogo, oppure le linee aeree, gli avvioggetti hanno la scatola nera, il registratore di volo, perché non estendere questo agli autobus, alle macchine e anche alle singole persone. Ecco, noi sappiamo che oggi molte di queste cose sono prassi quotidiane. Negli Stati Uniti soldati, militari hanno la videocamera personale in dotazione sempre, proprio per documentare l'attività in qualunque situazione in cui poi servisse documentarla. Sappiamo che effettivamente in tantissime situazioni, è curioso, non tale come che Milvo proponga anche delle situazioni possibili d'uso, per esempio l'assicurazione della macchina può avere interesse ad avere l'installazione di una sorta di scatola nera sulla macchina per tracciare i comportamenti di guida dell'utente e magari offrire degli sconti. Beh, tante di queste cose ci sono. Io stesso ho sulla macchina uno specchietto tipo questo, che normalmente funziona al specchietto retrovisore, per carità, però permette di vedere anche la telecamera frontale e la telecamera posteriore della macchina, c'ha la schedina di memoria e registra in continuazione. Io poi non ho mai guardato i filmati, ma ci fosse la necessità, ci fosse un incidente, c'è sempre la registrazione e questa è una cosa diffusissima, come sono diffusissime anche qui la mia assicurazione, c'ha il viaggia con me, cioè il dispositivo di eh nella macchina e è un modo per eh anche avere in caso di necessità poter chiamare soccorso, ma è anche un modo che evidentemente permette alla all'assicurazione in qualche modo di verificare gli stili di guida ed è chiaro che questo suscita interrogativi che eh erano posti anche in quel memo del novantatré sulla sulla eh il grande fratello, il controllo globale, ma anche questa enorme produzione eh di eh di dati che eh qui sono ancora in un certo senso dati abbastanza eh tradizionali, ma che immediatamente si allargano a nuove tipologie di dati. Ci sono anche dei progetti che eh forse è bene ricordare, anche se molte, molti di voi li conosceranno e non è un caso che diversi di questi progetti come My Life Beats eh o Stuff I Have Seen sono progetti che sono nati in casa Microsoft proprio per l'influsso di quel memo che ricordavamo ehm e eh My Life My Life Beats per esempio è un progetto che eh molto citato quando si parla di memorie personali eh che è stato importante da vari punti di vista, per esempio è stata la prima situazione in cui effettivamente si è cominciato ad allargare lo sguardo anche a tipologie nuove di eh produzione di contenuti. Eh questa oggi è abituale l'idea del tracker, chi fa eh non so un'attività sportiva sul territorio, tiene il tracciamento dei luoghi, oggi è abbastanza abituale ma questo è stato storicamente uno dei primissimi programmi che permetteva in qualche modo di lavorare eh sulla georeferenziazione per esempio delle immagini e ehm qualcuno probabilmente avrà presente anche questo questo libro, questa è la seconda edizione, un libro commerciale, lo si vede molto bene anche dalla dal tipo di copertina diciamo e dalla eh ma è un libro, questa è la seconda edizione, la prima si chiamava Total Recall che ha la prefazione di Bill Gates e che in qualche modo eh racconta questa filosofia di testimonianza della vita personale che c'è dietro molte che su cui poi magari torneremo che c'è dietro molte di queste eh molti di questi lavori. Ehm terza tipologia eh e ci siamo già avvicinati in un certo senso parlando appunto di tematiche come il tracciommillaggio di geolocalizzazione. Eh nuove tipologie di eh memorie personali, nuove tipologie di oggetti documentali ehm con un'esplosione appunto eh un'esplosione in qualche misura inflattiva, sono tutte tipologie inflattive molto spesso intrecciate tra di loro, per esempio le fotografie che riportano anche dati di geolocalizzazione, quindi c'è spesso un intreccio di tipologie diverse di documentazione di memoria personale e attenzione eh ribadisco qui appunto in particolare dal punto di vista anche della della riflessione filosofica, qui ci sono aspetti legati alla gestione di questa grande quantità di informazioni, ma anche aspetti legati all'esternalizzazione di molta parte della nostra memoria. Noi sappiamo dal passo famoso eh in cui Platone mette in bocca Socrate la discussione su quanto la scrittura faccia perdere nella capacità di memoria personale, l'abitudine alla memoria personale. Eh tutti noi abbiamo probabilmente ben presente per esempio che oggi non ci ricordiamo più a memoria e numeri di telefono delle persone anche più strettamente perché direttamente li li usiamo sul telefonino e qui c'è una forma di esternalizzazione appunto in qualche modo della memoria che ha conseguenze importanti, conseguenza che dunque sono sia dal punto di vista e qui eh ricordo solo ma proprio rapidissimamente richiamati attraverso schermate alcuni dei lavori che ci sono e sono tanti su tutti i problemi legati al recupero di informazioni da queste grandi basi dati di eh informazione personale, anche il tema in qualche misura delle categorie ontologiche che possono essere utilizzate per eh classificare queste tipologie di dati personali, di memorie personali, per esempio le leghiamo concettualmente a eventi, ad attività, a intenzioni, qui ci sono articoli che discutono anche di questi temi, ma eh ripeto c'è anche un aspetto importante che riguarda l'ambito della filosofia della mente, delle scienze cognitive, eh l'esternalizzazione della eh memoria autobiografica è un tema appunto che in qualche modo riguarda e io qui cito semplicemente il lavoro una un ambito di ricerche filosofiche ben noto che è quello della mente stesa che in qualche modo ci considera eh come una sorta di cyborg naturali che ehm estendono quando noi mettiamo su carta prima poi su supporti digitali una parte delle nostre memorie e quindi una parte della nostra identità in qualche modo includiamo quei supporti e quei contenuti nel nostro nel nostro io e il confine tra l'io e il mondo si sposta man mano che strumenti che utilizziamo e in particolare strumenti ai quali affidiamo una parte della nostra identità sono strumenti che sono anche fuori lo strumento biologico fondamentale che è il cervello. Ehm è un tema ripeto anche filosofico è stato toccato in molte forme. Io ricordo solo rapidissimamente eh due categorie che sono state introdotte da Derek De Kercove, quella di inconscio digitale e di gemello digitale. Eh Derek riprende diciamo dalla tradizione della scuola di Toronto eh la la eh una certa forza immaginativa anche nella costruzione però sono temi che sono ehm temi abbastanza chiari eh tante tracce che noi lasciamo del nostro movimento in rete sono tracce di cui noi stessi non siamo consapevoli ma sono tracce recuperabili sono tracce che hanno una loro oggettività digitale e che in qualche modo testimoniano le nostre attività, i nostri interessi, i nostri desideri e quindi da questo punto di vista costruiscono quello che appunto eh Derek De Kercove chiama inconscio digitale e che sviluppandosi, moltiplicandosi eh testimoniando aspetti progressivamente più numerosi delle nostre attività e del nostro essere persona costruiscono una sorta di alter ego digitale eh che è l'insieme di di tutte le tracce di memoria personale che noi lasciamo in rete e e qui capite che eh mi avvio verso la fine della relazione capite che eh andiamo nella direzione dei big data e in una direzione che naturalmente pone tantissimi problemi eh noi siamo già a livello dei big data per quello che riguarda le tracce che noi lasciamo online e ehm e questo ovviamente produce problemi da tanti livelli, problemi a livello giuridico, etico, epistemologico, problemi ingegneristici, problemi archivistici, per esempio quali strumenti di gestione utilizzare per questa eh enorme quantità di dati, come descriverli, come recuperarli, cosa conservare, come, quali forme di tutele e effettivamente un e si arriva a su questo chiuderei a a un campo che è quasi anzi direi che forse è quasi decisamente oltre il confine della della fantascienza più che della riflessione scientifica accademica ma su cui c'è eh materiale riflessione, il tema dell'immortalità digitale, degli ehm è un tema che per certi versi eh come dire eh giustamente credo accantoniamo come ehm insomma un po' lontano dagli interessi accademici che dovrebbero eh caratterizzarci con un po' più di rigore però è un tema che è interessante almeno da due punti di vista. Uno è quello che alcune realizzazioni che vengono fatte sono comunque interessanti. Pensiamo a tutte le cosiddette virtual persone, la 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 le personalità virtuali costruite a partire da testi, discorsi, immagini eh materiali di eh personaggi per esempio personaggi famosi del passato. Con i personaggi del passato noi abbiamo la forte limitazione della eh del fatto che lavoriamo con archivi eh di persona limitati e quindi riusciamo a costruire delle personalità che sono degli esercizi in qualche modo di intelligenza artificiale magari ma non sono certo ricostruzione di personalità ma credo sia legittimo domandarsi nel momento in cui moltiplichiamo la quantità di contenuti e di memorie personali con cui lavoriamo che tipo di lavoro facciamo quando utilizziamo questi contenuti per esempio in progetti di intelligenza artificiale di questo tipo. E poi c'è un altro aspetto che è in qualche modo legato al tema dei miti d'oggi cioè eh queste riflessioni come le riflessioni sul simulismo come le riflessioni sono diciamo eh scarsamente rigorose per tanti versi ma significative come eh modo d'uso di una serie di tematiche che sono tematiche reali e concrete come appunto la moltiplicazione delle tracce delle memorie personali e che noi guardiamo in certi modi e anche capire in quali modi guardiamo a questi materiali e eh socialmente anche in opere di fantasia pensiamo non so serie televisive come Upload che eh su Prime Video che alcune cose che sono pure curiose anche da un punto di vista archivistico ovviamente siamo nel campo totalmente della fantasia o della fantascienza però un qualche interesse nel momento in cui eh ci interroghiamo su quello che succede delle memorie personali nel nell'epoca del digitale nell'ecosistema di rete un qualche interesse credo ce l'abbiano. Grazie. 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 Per questa veramente molto molto interessante prospettiva sistematica eh relativamente a un problema che si comincia ad affrontare e che le ultime parole che prendo eh lascia dal punto di vista archivistico pensare a problemi di conservazione, a problemi di recupero, a problemi di tutela dei dati presenti in questa enorme lo possiamo dire quasi infinita massa di informazioni contestualizzate che produciamo e potenzialmente eh potremmo anche volere intendo eh veramente bene e voler conservare e studiare. Ma io adesso lascio subito la parola al relatore successivo che è Stefano Vitali il quale avvia proprio con una citazione io sono uno che non butta io faccio delle pide immagini rappresentazioni e fantasmi negli archivi di persona. La prima cosa che mi viene in mente io sono uno che non butta io faccio delle pide sicuramente non si riferisce all'immagine che mi viene in mente un archivio cartaceo di grazie a Dio Isai Ascoli che aveva il padre della nostra linguistica che aveva proprio l'uso di fare delle pile e non buttare nulla e in quella forma il suo archivio è giunto attraverso la mediazione dei suoi eredi all'Accademia dei Lincei che oggi si conserva se lo vuole descritto e organizzato in modo da essere perfettamente consultato. Mi perdonerete per questa immagine che mi viene in mente e lascio subito la parola a Stefano ricordandogli i venti minuti virtuali diciamo ma di dove devo farlo. Bene vai Stefano per questo intermezzo. Grazie molto Andrea di questa introduzione. Io parlerò di pile di archivi pace e mi sentite sì? Perfettamente. Ah bene no perché non si sa mai qui diciamo se si riesce a comunicare no attraverso questi scherzi. Ringrazio molto anche insomma degli inviti che mi è stato fatto a partecipare a questo eh convegno che affronta delle tematiche di di eh su cui io diciamo ho lavorato molto e che eh rivestono per me un interesse veramente notevole. Allora io eh comincerei col dire che è difficile eh sottovalutare l'importanza che gli archivi di persona hanno avuto negli ultimi anni nelle prassi e neanche molto nelle riflessioni degli archivisti. Credo che lo dimostrino bene eh i molteplici convegni, le pubblicazioni, le varie iniziative che su questo tema si sono tenuti negli ultimi tempi e mh lo dimostra certamente anche questo convegno ma eh forse è opportuno ricordare che fra un paio di giorni a Firenze si svolgerà un convegno in cui eh gli archivi di di persona saranno bene o male eh protagonisti. Forse quindi occorrerebbe chiederci da che cosa derivi tanto interesse oltre che ovviamente dall'esplosione quantitativa di questa tipologia di archivi un'esplosione cui si è assistito negli ultimi decenni e dalla necessità anche di rispondere con l'attività di ordinamento e di mettere azioni da parte degli archivisti ad un altrettanto forte interesse che è mostrato nei confronti della documentazione personale come fonte per le proprie ricerche e propri studi da parte di eh molteplici eh discipline. Ecco eh io credo che l'interesse degli archivisti derivi eh dal fatto che le riflessioni intorno agli archivi di persone hanno dimostrato in questi anni di essere capaci di introdurre elementi di forte di discontinuità nel quadro di una disciplina come l'archivistica che devo dire non sempre riesce ad adeguare i propri strumenti eh teorici e metodologici di fronte al mutare delle contingenze storiche degli oggetti di cui si deve occupare nonché delle via via mutevoli eh sensibilità culturali credo quindi insomma tutto sommato che gli archivi di persona esercitino in effetti non so eh eh se del tutto consapevolmente che esercitano comunque un notevole fascino sugli archivisti soprattutto perché questi archivi hanno eh come dire compiuto un un fatto compito un importante passo agli archivisti secondo me cioè hanno finalmente sdoganato la soggettività l'intenzionalità la volontarietà nei processi di formazione degli archivi il che una disciplina come come la nostra insomma come l'archivistica eh che si è per più di un secolo fondata su una visione organicistica di questi processi di formazione e su modelli ispirati a metafore di stampo geologico naturalistico di derivazione più o meno positivistica tipo la metafora della sedimentazione naturale spontanea involontaria degli archivi credo appunto che questo sdoganamento della della soggettività sia di per sé un fatto importante ed è in fondo molto rassicurante credo appunto per gli archivisti in primo luogo incontrare e anche per i ricercatori insomma che poi questi archivi con questi archivi si confronteranno incontrare su questo terreno altre discipline ed altre professioni contigue come certamente quelle eh bibliotecarie che dopo avere non infrequentemente insomma per circa un secolo praticato lo smembramento degli archivi e delle biblioteche personali hanno riconosciuto diciamo negli ultimi decenni l'importanza e il significato profondo della necessità di preservare l'unitarietà appunto di archivi e biblioteche personali forgiando anche dei concetti eh che sono molto significativi molto importanti anche eh per gli archivisti tipo quello appunto formulato da Luigi Crocetti eh degli archivi culturali un concetto che credo riassuma in modo lampante sia il valore appunto dell'intenzionalità insomma la cultura certo insomma è in qualche modo contrapposta a una visione così puramente spontanea naturalistica eh della creazione di queste aggregazioni sia appunto diciamo sottolineato questa intenzionalità che soprattutto l'inopportunità di porre confini ai multiformi e magmatici processi di aggregazione documentaria del mondo contemporaneo si tratta di concetti che eh appunto tanto in un concetto in particolare questo di archivio culturale insomma mette bene in evidenza come all'interno appunto di questi processi di aggregazione eh di questa tipologia appunto di archivi eh tutto è in qualche modo documento anche libri ed oggetti insomma e mette bene in evidenza anche come si instaurino grazie a tali progetti delle relazioni forti eh relazioni insomma o relazioni comunque significative fra questi oggetti eh fra i documenti eh fra i libri e nello stem ed in lo stesso tempo si instaurino delle relazioni fra questa documentazione e i contesti che la documentazione ha attraversato o attraversa per cui da ciò insomma emergono delle degli archivi delle aggregazioni documentarie che costituiscono una testimonianza unica di insostituibile un prodotto appunto culturale eh di per sé ecco eh certo mh la scoperta eh così dire della soggettività e dell'intenzionalità del produttore nelle dinamiche di formazione eh di questi archivi ha avuto almeno due importanti conseguenze che sono state variamente rilevate e sottolineate da archivisti e bibliotecari che se ne sono occupate la prima è che ovviamente la eh soggettività del produttore atteso a configurarsi come la chiave di lettura fondamentale dell'archivio o meglio il primo luogo del rapporto fra l'archivio e appunto la persona che lo ha messo in essere un rapporto che ha dato origine a varie metafore insomma più volte ripetute più volte eh che si incontrano diciamo molto spesso nella letteratura e che richiamano direttamente o indirettamente l'idea di una sorta di identificazione più o meno forte dell'archivio con il suo produttore metafore metafore quali l'archivio come specchio di carte come autoritratto d'inchiostro come autobiografia cartacea come rappresentazione autorappresentazione o narrazione del sé o semplicemente come immagine o testimonianza di sé da tramandare ai posteri e poi se ne potrebbero in realtà citare molti altri. La seconda conseguenza eh sta nel fatto che eh diciamo archivisti e bibliotecari non hanno o diciamo che mh tutto prendere atto del fatto che come ha scritto efficacemente Marco Bologna ogni persona può costruire il proprio archivio con quanto gli aggrada e che la scelta stessa del materiale costitutivo è una testimonianza della persona stessa. L'insieme archivistico è totalmente fin dall'origine frutto della libera scelta del suo autore sia dei materiali costitutivi sia della loro correlazione organica complessiva. Insomma qui finita la citazione. Insomma non ci sono regole fisse ed assolute. La decisione su ciò che si intende debba confluire nell'archivio e ciò che invece non vi deve siccome la scelta delle eh modalità di organizzazione della documentazione e di instaurazione dei rapporti fra le carte tutto ciò appunto ricade in primo luogo sul soggetto che lo viene formando o lo ha formato. Archivisti ma anche bibliotecari sembrano quindi sostanzialmente d'accordo per riconoscere come l'archivio nell'archivio di persona si possa cogliere una rappresentazione o un'autorepresentazione o comunque un'immagine del soggetto che lo ha prodotto. Credo che meno certezze e meno univocità di pareri ehm esistano invece su quali aspetti o componenti dell'archivio contribuiscano a creare o almeno rivelino l'immagine del sé che l'archivio reica iscritta. Le opzioni eh così come i pareri su questo punto eh sono stati in realtà molteplici. Mi limiterò a citarne alcuni eh senza rinviare a casi particolari che li corroborino perché insomma altrimenti sarebbe sarebbe un po' troppo lungo. Sforerei i venti minuti che mi sono assegnati eh perché ha sottolineato con forza l'impronta del soggetto produttore dell'archivio si rivela innanzitutto nella qualità del materiale conservato nell'archivio eh per quanto esso è appunto in grado di raccontare della della singola persona, dei suoi percorsi esistenziali, delle sue attività ma anche anzi forse soprattutto o dei suoi gusti e interessi in particolare di quelli più intimi e più riposti che non si colgono necessariamente negli scritti editi o nell'immagine pubblica della personalità. Dall'archivio eh emergono quindi i valori individuali, le concezioni di vita, i processi creativi, proprio perché vi si conservano note appunti, di riflessioni, diari nei quali la scrittura e qui cito l'indagiova si fa strumento di introspezione, di chiarificazione e di ordine interno. Oppure come ha scritto un archivista canadese molto si è occupata di questi archivi, gli archivi di persona non riguardano solo affari personali più o meno ufficiali o attività eh formalizzate ma sono anche fonte importante in cui si riflette la quotidianità e la vita e le relazioni personali. Gli archivi di persona contengono la visione personale delle esperienze di vita e qui chiudo la citazione. Altre volte invece l'immagine o la rappresentazione del produttore è stata colta nel rapporto fra i vuoto e i pieni dell'archivio, cioè è stata colta nella presenza eh o assenza di documentazione che sarebbe lecito attendere a attendersi che ci fosse di fronte eh eh a fronte di esperienza eh e attività più o meno note eh della mh personalità, di percorsi vissuti pubblicamente eh o pubblicamente conosciuti ma il rapporto fra vuoti e pieni determinati da eh processi di selezioni espliciti e volontari della documentazione ma non di rado anche eh quelli che sono causati da eventi esterni perché insomma poi anche nell'evento esterno c'è sempre come dire una causa che forse può ricondursi alla soggettività individuale insomma tutto questo eh può rivelare tutte queste mancanze, assenze, questi vuoti e questi pieni possono rivelare gerarchie di interessi, valori eh scelte di vita, implicito esplicite, oppure censure e rimozioni o progetti di costruzione di identità o semplicemente di memoria, cioè progetto, progetti espliciti insomma che riguardano ciò per cui si vuole essere ricordati dai posteri più vicini, i mediati eredi o invece quelli più ventani, insomma i posteri che non ci si immaginano neanche. Eh in terzo luogo eh un approccio archivisticamente più intrigante si è invece spesso guardato all'organizzazione dell'archivio, al rapporto fra ordine e disordine, insomma seppure la categoria del disordine così come tale possa essere utilizzata all'interno degli archivi in generale soprattutto di questi archivi. E così eh si è individuato nelle tracce di ordinamento presenti appunto negli archivi personali, segnali molto significativi del rapporto fra l'individuo e il proprio archivio, soprattutto laddove possano riconoscersi per esempio parti di archivio per così dire più disorganizzate rispetto ad altre più curate, cosa che potrebbe testimoniare un uso supposto o effettivamente ricorrente di una parte della documentazione rispetto ad altra, oppure gerarchie di rilevanza attribuite eh a determinata eh documentazione oppure ad attività, fasi di vita, esperienze personale. Eh hanno spesso colpito e vi è stato spesso anche visto come dire un progetto forte di trasmissione della propria memoria, quegli archivi sapientemente organizzati e ve ne sono e ve ne sono molteplici, insomma si potrebbe si potrebbero citare ovviamente anche molto facilmente mh e questi archivi appunto che mostrano un materiale che è ordinatamente distribuito secondo logiche facilmente riconoscibili eh se non addirittura descritto dal proprio produttore in elenchi, schedari, liste di fascicoli utili ad orientarsi nel proprio patrimonio documentario. Così come all'opposto eh e me lo confermava appunto poco fa eh Andrea eh sconcertano un po' il gli archivisti i casi opposti di aggregazione alluvionale di materiali raccolti con criteri che sembrano approssimativi eppure rivelano una logica appunto tutta personale come nel caso citato nel titolo del mio intervento che la citazione tratta da un'intervista ad un ex militante del 68 o genovese Rosario Spadascini eh che è eh riportata appunto un libro di Virginia Niri Voci d'archivio e questa citazione per estesa insomma eh dice questo io sono uno che non butta via nell'immediato facilmente le cose io faccio delle pile che hanno una struttura organizzata non molto forte però a me è sufficiente per poter reperire le cose che poi se delle cose mi servono risultano assieme sono vicine quindi io faccio delle pile le ho sempre fatte quindi saltando e ricordando appunto andando a parlare dell'archivio del 68 insomma che gli appartiene quindi tenevo ste cose non tutto senza un progetto preciso senza rifletterci veramente le emettevoli e dalle pile poi è nato in realtà l'archivio che ha prodato l'archivio di Spadascini che ha prodato l'archivio dei movimenti di Genova un progetto di trasmissione della memoria apparentemente debole cambia natura però non appena ci si propone di socializzare questa memoria e di renderla disponibile ad altri come ha ricordato un archivista canadese quella che ho già citato la struttura degli archivi di persona può essere e qui cito appunto comincia la citazione piena di significato perché la loro organizzazione fisica e logica può essere testimonianza di idee e di attività essa può rivelare una granularità di collegamenti fra l'organizzazione fisica e quella intellettuale la presenza di un documento all'interno di un fascicolo può indicare metodologie di lavoro idee decisioni ma anche e qui cito ancora l'apparenza di disordine originale può essere rivelatore e può significare cose diverse sono completamente disorganizzato cioè il soggetto che ha prodotto l'archivio è completamente disorganizzato ho deciso di non organizzare questo perché avevo cose più importanti da fare o c'è un ordine qua ma tu non riesci proprio a vederlo e quindi diciamo questo è un ammonimento evidentemente nei confronti dell'archivista che non sa riconoscere una logica nelle pile insomma l'immagine la rappresentazione o l'auto rappresentazione dell'individuo che ha messo in essere un determinato archivio può riconoscersi in vari elementi in uno in una combinazione variabile degli elementi sui quali mi sono soffermato in altri ancora che non ho ricordato per esempio le decisioni che possono essere prese di indirizzare l'archivio in un'istituzione o al posto di un'altra o invece di smembrarlo e poi appunto farlo approdare in diverse istituzioni archivistiche tutto ciò diciamo tutto ciò può costruire insomma delle immagini del produttore a patto però che non si dimentichi mai che tale immagine è per lo più un'immagine parziale rispetto alla molteplicità dei sei nei quali si è probabilmente manifestata la personalità appunto del produttore nel corso della vita credo che si possa dire dell'archivio di persona quanto isabella zanni rosiello ha scritto a proposito delle biblioteche di persona il riferimento in questo caso è alla propria le biblioteche personali non sono salvo determinate eccezioni una sorta di autoritratto dei rispettivi possessori ne offrono piuttosto un'immagine sfocata composta come è sia da tratti marcati sia da tratti sbiaditi confusi talvolta evanescenti per questo quando si vuole guardare all'archivio di persona nelle sue diverse componenti qui finita la citazione evanescenti finisce la citazione per questo quando si vuole guardare all'archivio di persona nelle sue diverse componenti nel suo assetto complessivo come guardare guardare all'archivio come una fonte insomma per trarre da esso e qui cito di nuovo degli spunti per delineare alcune schegge autobiografiche o biografiche dei rispettivi produttori o possessori nel caso di biblioteche ancora Isabella rosiello che parla non si devono trascurare alcune delle cautele grosso modo ricalcate su quelle che si usano per le fonti in generali tanto più e qui sono invece parole mie non è detto che l'immagine del produttore sia l'unica che si proietta sul suo archivio infatti come ben si sa una lunga pratica di la lunga pratica insomma degli archivisti e dei bibliotecari sugli archivi di persona ha ben dimostrato che essi sono forgiati da un insieme di fattori che vanno oltre le vicende biografiche dei produttori o dai loro orientamenti conservativi insomma tutto quanto siamo venuti dicendo fino adesso poi degli orientamenti che come abbiamo visto possono essere anche contraddittori un elemento su cui molto e giustamente si insiste è l'azione di soggetti terzi l'azione sull'archivio di soggetti terzi fra i quali in primo luogo gli eredi legali o spirituali che intervengono non di rado sull'archivio per selezionarlo organizzarlo ridefinirne identità e confini e lo fanno di frequente con un progetto in testa o meglio con l'idea di trasmettere una determinata immagine del produttore che può concilere o no con quella che consapevolmente o meno il produttore aveva appunto affidato all'archivio o che comunque era immersa dai progetti di aggregazione disaggregazione selezione e organizzazione o non organizzazione dell'archivio diciamo nella sua fase di formazione talvolta questi interventi sono così profondi piuttosto che un'immagine del produttore rimane invece una sorta di fantasma che si aggira forse sconsolato fra le sue carte si aggira fin tanto che non si incontra con l'archivista il quale a sua volta avvicinandosi all'archivio con tutta la propria professionalità gli raccomanda la massima fedeltà e il rispetto dell'organizzazione dell'archivio è chiamato spesso a fare le scelte forse sempre insomma quando quando si ordina un archivio si fanno delle scelte insomma e si fanno delle scelte che si riflettono inevitabilmente sull'organizzazione che l'archivista ha trovato o non ha trovato insomma all'interno degli archivi di persone e queste scelte l'archivista non le potrà fare che con gli strumenti le conoscenze le preferenze e le idiosincrasie che gli appartengono darà quindi anche egli il suo contributo quanto auspicabilmente limitato ma non sempre così insomma lo dico per esperienza personale cioè lo dico per insomma insomma come il riordinatore anche gli archivi di persona si troverà comunque anche anche l'archivista a contribuire a forgiare le immagini e le rappresentazioni che dall'archivio scaturiscono così come fanno anche i ricercatori e gli studiosi infine volta piegano gli archivi di persona ai propri interessi di ricerca e di studio o semplicemente di quelli contribuiscono a costruire un orizzonte di senso a farne letture a proporre interpretazioni che variano nel tempo insomma nel corso dei processi di formazione e conservazione uso e trasmissione l'archivio di persona è soggetto a ricorrenti rimodellazioni che ne ridefiniscono identità e struttura per l'azione di svariate soggettività ma intenzionalità il produttore gli eredi le istituzioni di conservazione gli archivisti e via dicendo ecco ma io mi chiedo e vi chiedo non sono queste forze le forze le soggettività le intenzionalità che agiscono sempre su tutti gli archivi in forme diverse in misura diversa in tutti gli archivi a prescindere dal fatto che siano prodotti da persone da enti da istituzione o di organizzazione non è insomma che alla fine scopriamo che gli archivi di persona non sono poi così diversi da quelli con i quali si è tradizionalmente confrontata la disciplina archivistica cioè dagli archivi istituzionali o meglio non è che ci accorgiamo che questi ultimi cioè gli archivi di istituzione non sono poi così diversi dagli archivi di persona e sono come questi ultimi il prodotto di scelte intenzionali di soggettività individuali e collettive. Grazie. Grazie Stefano per questo bello intervento che ancora una volta chiarisce qual è il tuo punto di vista in merito al rapporto che intenzionalità e come dire sedimentazione non userò il termine naturale progressiva negli archivi di persona e di istituzioni si alternano però direi che è suggestiva all'immagine delle pive che si che si accumulano nell'archivio del sessantottino e che al tempo stesso rappresentano il suo modo di organizzare le carte e di contro me ne vorrai nelle istituzioni negli uffici la produzione documentare è comunque affidata a persone e quindi in questo non si può che concordare con te prese collettivamente prese singolarmente o sul loro profilo istituzionale direi eh poco si può dire diciamo di diverso da quello che tu sostieni eh però io adesso mi preparo qualche domanda per lo spazio domande devo dare la parola e voglio darla a Fiammetta Sabba e che ci presenta eh un altro tema eh rilevante rilevantissimo in questo momento particolare ovvero i fondi di persona nel senno della contemporaneità dalle linee guida per la gestione alle attività di public engagement ovvero il lato eh della eh gestione degli archivi di persona di come la nostra comunità e la comunità degli archivisti bibliotecari storici in generale deve affrontare eh il problema eh della gestione del problema questo eh da questa realtà così rilevante allora io lascio subito la parola a Fiammetta ricordandoli venti minuti virtuali insomma finora i relatori si sono abbastanza attenuti al nostro virgolette consiglio quindi prego Fiammetta hai la parola per la tua relazione grazie Andrea grazie per la parola e benvenuti a tutti i partecipanti relatori quindi colleghi eh amici e un ringraziamento particolare al collega Allegressa per aver organizzato questa iniziativa scherzando proprio con con lui ho definito questa mia relazione come un intervento on demand avendomi lui eh richiesto di eh di illustrare e cercherò di farlo rapidamente i punti salienti del del lavoro sui fondi di persone d'autore eh per testimoniare proprio insomma la mia partecipazione ai lavori della commissione AIB che è coordinata ancora da Francesca eh Ghersetti e che l'ha eh rappresentata eh oggi io ne ho fatto parte dal duemila quattordici al duemila e venti quindi fino alla eh redazione alla pubblicazione delle linee guida eh che vi presenterò molto rapidamente in una in una prima parte e ehm e poi anche insomma l'invito è legato all'aver organizzato con il professor Di Domenico eh il convegno e aver curato i relativi atti eh il convegno e il privilegio della parola scritta. Allora io vado a condividere nel frattempo lo schermo. Ditemi se si vede. Sì sì perfettamente. Perfettamente vai vai pure. Eccola. Partito. E ehm gli atti del del convegno di cui vi parlavo sono questi e questa invece è l'ultima ehm l'ultima pubblicazione eh della commissione eh AIB tra l'altro la commissione AIB ha collaborato proprio anche all'organizzazione eh del del convegno che vi ho citato. La l'intervento di ehm di oggi mh si strutturerà principalmente in in tre parti ma eh mi premeva intanto fare una piccola introduzione in quanto nel negli atti del convegno nelle riflessioni finali pubblicate segnalavo proprio la necessità di occuparsi eh anche di memorie digitali ma di farlo in modo specifico eh in quanto le memorie digitali richiedono una mh ormai una preservazione immediata proprio per evitarne la dispersione come è già stato eh segnalato e eh la richiedono soprattutto in questa fase ancora scientificamente incerta sia per la scarsa diffusione di corrette pratiche quotidiane di gestione e di conservazione a lungo termine sia perché non si trovano ancora comprese infatti è più corretto forse parlare di memorie nel eh comparto dei fondi personali in senso proprio così come siamo eh abituati a concepirli eh a trattarli come siamo abituati a parlarne riferendole appunto a quella eh forma eh tradizionale che attiene principalmente al secolo scorso quindi veramente grata al collega di portare avanti questa innovativa linea di studi e di riflessioni ehm quindi questo mio intervento dopo una carrellata su definizioni questioni e struttura delle linee guida anche perché definizioni questioni sono già state dai precedenti interventi eh tirate in ballo e sollecitate mi concentrano poi su due attività collegate la comunicazione e la valorizzazione sulle quali merita io credo anche in relazione in particolare alle opportunità eh digitali che anche questo convegno eh vuole eh vuole sollecitare per cui merita di soffermarsi mh un richiamo a eh Federico Valacchi che saluto che appunto ha visto prima in introduzione in quanto mh Valacchi è più volte intervenuto anche via social su archivistica attiva che merita anche per noi bibliotecari bibliografi biblioteconomi insomma di di seguire perché poi ci sono questioni eh liminarie che ci riguardano tutti è intervenuto alle volte correggendo il tiro eh su alcuni ragionamenti sul mondo digitale invitando eh anche a pensarlo come un mondo che può essere costruito dal punto di vista dei contenuti e non per forza esattamente come speculare a quello eh tradizionale e ehm condivido mh penso che legittimarlo attraverso contenuti più che attraverso eh gli strumenti può essere utile spogliandoci un po' di preconcetti per sfruttarne al meglio le potenzialità e questo anche in relazione a eh contesti ne cito soltanto alcuni sicuramente ne avete appunto sentito ampiamente parlare come quello della convenzione di Faro che insomma eh è stata eh attuata di recente in Italia che quindi ci vedrà sempre più coinvolti ma anche quello della public history e della terza missione quindi tutti i contesti che vedono coinvolti i nostri istituti culturali e contesti che poggiano tutti sul coinvolgimento eh del pubblico mh sottolineerei eh proprio per eh farci un'attenzione particolare eh non per una democraticizzazione o socializzazione della cultura che tende un po' a svilire tutto quello che facciamo e il nostro patrimonio quanto per la costruzione di una cultura democratica e di una eh memoria pubblica eh condivisa. Parto quindi dalle definizioni ma chiedendovi di prestare semplicemente attenzione ai termini ehm che sono stati sottolineati proprio per richiamare anche per ricollegarmi agli interventi precedenti raccolta caratteristiche interne attività intellettuale poi ce ne sarebbe anche rete di relazioni contesto storico-culturale del possessore questa ripresa da eh Giuliana eh Zagra poi desideri e calabri che parlano sempre di raccolta legata all'attività appunto di un soggetto ma introducono un termine fondamentale quello di vincolo che distingue un po' eh gli archivi eh dalle dalle biblioteche che invece si rifanno più forse ad un concetto ad un concetto eh di inesso e anche eh in relazione a quello che ehm diceva Stefano Vitali prima eh il mh attraverso il vincolo negli archivi si può anche evincere più facilmente quello che manca. Questo nelle biblioteche è molto più difficile proprio perché non c'è questo legame diciamo di eh necessarietà e e allora quando parliamo di biblioteche e archivi personali non in senso professionale e gestionale ma in senso scientifico dobbiamo anche riflettere su quello che manca che magari è stato opportunamente cancellato dimenticato ma penso anche alle biblioteche a tutti i libri che leggiamo in prestito che restituiamo alla biblioteca eh non è il nostro percorso intellettuale ricostruibile appieno quindi poi la definizione sugli archivi di persona si è sempre più conformata si è sempre più eh strutturata eh in quelli che sono i suoi caratteri distintivi e questo a partire già da da molto tempo fa ehm Stefano Allegrezza ha citato quel eh convegno che risale agli anni novanta specchi di carta mh di archivi storici di persone fisiche curato nel novantatré pubblicato nel novantatré ma già Francesco Barberi per soprattutto le questioni bibliografiche era intervenuto nel cinquantasei aprendo poi la strada a tutto il ragionamento sulle biblioteche private come paradigma bibliografico e anche sulle eh biblioteche appunto del novecento che sono state poi eh evidenziate grazie a tutte le iniziative che vanno sotto la denominazione di conservare il novecento che hanno visto protagonista eh Luigi Crocetti. Da quel momento le pubblicazioni sono enormemente eh aumentate su su eh su questo versante scientifico e ehm la commissione AIB ha pubblicato una ricca bibliografia che è consultabile sia scorrendo cronologicamente questo anche per vedere appunto qual è stato lo sviluppo sia eh alfabeticamente ma non per nome di autore quanto di soggetto eh di studio di quella specifica eh pubblicazione. Quindi Petrucciani, Giuliana Zagra, Mauro Caproni, Anna Manfron che abbiamo ospitato di recente proprio sui fondi di persona nel seminario di carte di libri e dintorni eh Caterina Del Vivo eh e quindi tantissimi dei nostri professionisti e studiosi. La commissione AIB appunto si è eh trasformata da gruppo a ehm cercavo ecco di spostare così vedete meglio da gruppo a eh commissione e ehm aspettate che non si muove più ecco eh con degli obiettivi principali andare oltre i meri problemi di catalogazione, inventare azione, ricercare un approccio unitario collaborativo tra archivisti e bibliotecari e possiamo dire anche oggi che questo eh è stato eh realizzato, farsi canale di raccolta di esigenze e esperienze di biblioteche e bibliotecari e sensibilizzare con attività e azioni di riflessione oltre a produrre strumenti condivisi e disporsi. Tra gli eh strumenti mh nel sito web potete consultare la parte relativa alle definizioni ehm tenere d'occhio la sitografia con progetti specifici e ehm poi eh c'è anche tutta una un reparto di video sulle iniziative che eh che sono state fatte oltre che eh appunto eh pubblicazioni degli atti sui seminari e eh convegni. Quali sono gli approcci? Ne ho già fatto c'è non tanto vi chiedo se si sente bene perché mi è arrivato un messaggio dicendo che si sentiva così e così. Perfetto. Ok. Perfetto. Senti bene se senti. Sono tranquilla. Eh allora gli approcci che già abbiamo sollecitato sono da un versante di tipo professionale e dall'altro di tipo scientifico biblioteconomico, archivistico, più puramente manageriale, giuridico ehm e scientifico da un lato, culturale sia storico documentario eh e quindi più di interesse eh degli archivisti che bibliografico. Allora da un lato sugli approcci professionali si considera innanzitutto ciò che è presente solo per gli archivi ciò che manca vincolo e in esso come abbiamo eh detto prima. Sul versante scientifico una riflessione che va fatta ovviamente queste sono sintesi di riflessione è considerare non solo il presente ma appunto anche l'assente, lo scartato, il cancellato, il subito e ehm tenere eh d'occhio, l'ordinamento, la classificazione, le tracce d'uso eh di di lettura, di possesso che devono essere studiati per finalità culturali. Quindi linee d'azione e obiettivi integrati dalla parte eh professionale e dalla parte scientifica. Quindi risolvere i problemi, valorizzare con anche il fine di affermare una coscienza eh anche di identità nazionale e culturale per quanto riguarda l'ambito professionale, per quanto riguarda l'ambito scientifico, studiare qui a fondo la biografia, l'attività di un autore ma anche indagare sull'evoluzione di una tematica o di un ambito scientifico eh ricordiamo che noi parliamo di fondi d'autore personali ma poi ecco un altro fronte che andrebbe sicuramente aperto è l'analisi delle specificità di questi fondi e di queste collezioni. Cioè un fondo di un architetto eh avrà delle specificità completamente eh diverse rispetto al fondo di un filosofo, di un musicologo come anche eh citava eh Gino prima. E tutto col fine di rintacciare dei modelli culturali, storico, bibliotecari e letterari da un lato, archivistici e documentari dall'alto perché è solo attraverso dei modelli e dei casi che non riusciamo a lavorare dal punto di vista scientifico in modo paradigmatico e è su quello che poi siamo in grado di stabilire un il valore di un fondo non eh non quindi in assoluto. Le le linee guida si strutturavano, si strutturano ma sono un work in progress e in queste eh sessioni principali caratterizzanti a mio parere sono quelle relative alla catalogazione, inventariazione e costruzione degli strumenti di consultazione da un lato eh quindi con eh particolarità che riguardano soprattutto la descrizione dell'esemplare e la gestione catalografica degli inserti che sono un po' quello che caratterizza eh i singoli pezzi di una biblioteca di persona ed autore altrimenti sarebbe un'edizione eh pulita come le altre invece si tratta attraverso tutta questa documentazione come li chiama Anna Manzola, li chiama Libri Faciti eh di eh restituire anche il quadro delle eh relazioni di quel soggetto. Ecco parlo di soggetto. Noi eh bibliotecari abbiamo, siamo siamo in debito con gli archivisti perché siamo riusciti eh forse ad inquadrare meglio i fondi eh anche librari assumendo quel concetto di soggetto produttore che quindi ci ha dato la possibilità eh di isolare eh in un certo senso idealmente questi fondi. L'altro eh punto che secondo me è interessante eh soprattutto appunto in un'ottica ancora di lavoro da fare è quello relativo alla valorizzazione, comunicazione e eh e promozione. Eh bisognerebbe riflettere sul primo eh aspetto sulla valorizzazione. Eh noi qui abbiamo come commissione AIB indicato valorizzare un fondo prima di averlo completamente trattato. In realtà dobbiamo ricordare che le linee guida sono appunto delle linee guida ma che eh le istituzioni poi devono regolarsi sulla propria specificità, sul proprio contesto eh sia geografico eh che culturale eh di azione. Perché c'è anche chi ritiene che non sia il caso di consumare ehm come dire l'attesa e la curiosità pubblica di dare la precedenza e l'importanza primaria ehm ad attività come di valorizzazione che dovrebbero essere in realtà anche un po' la prova del nove di un processo corretto di eh di gestione, di trattamento, di collocazione del fondo. Anche le mostre insomma devono essere una occasione di attività prima di tutto bibliotecaria, parlo appunto nel caso specifico delle biblioteche, un'occasione per il controllo del materiale, la sistemazione della sua descrizione, l'implementazione delle informazioni fornite, altrimenti ci proiettiamo a fare fuochi d'artificio e soprattutto magari promesse verso un'utenza che in realtà non sappiamo se potranno essere mantenute. Spostandomi appunto su ancora sulla valorizzazione ma eh sul piano digitale molto rapidamente vorrei ricordare che ci sono sì molti strumenti ma anche già molte attività eh in parte sperimentali, in parte più consolidate eh appunto di valorizzazione digitale. Una può essere la descrizione specifica eh realizzata all'interno dei progetti wiki ehm ma tutto parte da una corretta descrizione del sito web eh della istituzione dando innanzitutto eh conoscenza di quelli che sono i fondi bibliografici archivistici posseduti e poi dedicando spazio con una appunto scheda del fondo, scheda del soggetto produttore eh al fondo specifico dando tutti quelli che sono i riferimenti eh principali in maniera eh sintetica. Questo è un esempio tratto dalla dal sito web della biblioteca di Palazzo Conradini del campus eh di Ravenna. Un altro esempio eh ancora diciamo più specifico eh su questo piano è quello della fondazione eh Federico Federico Zeri. Wikimedia Italia ehm è un altro fronte diciamo di supporto di valorizzazione digitale e anche l'associazione italiana eh biblioteche si è eh appoggiata ad essa per numerosi progetti. In particolare ricordo il eh grande lavoro importante lavoro fatto dai bibliotecari dell'università degli studi di Salerno eh che appunto hanno eh lavorato a eh inserire nel sito web dell'università un'ampia eh ricca descrizione del fondo ma sono poi passati anche a lavorare su eh Wikipedia grazie al progetto eh Glam quindi al progetto che unisce eh che accomuna eh in linguaggi e in iniziative anche descrittive musei, archivi eh e biblioteche. Attraverso appunto Wiki è stata fatta poi una descrizione della biblioteca personale con collegamenti eh e rimandi esterni ma si è lavorato anche su Wikisource mettendo a disposizione ehm le eh le edizioni diciamo eh caratteristiche caratterizzanti eh quel fondo eh specifico che sono quindi consultabili eh a libero accesso. Eh di conseguenza è stato arricchito eh anche il eh data set relativo. Un'altra forma di valorizzazione digitale è quella attraverso i social media eh quindi insomma è possibile fare dei post eh su eh sui fondi speciali dei post opportuni ma come vedete anche da questa slide ehm ci questi esempi ci permettono di sottolineare come questo tipo di comunicazione non debba essere eh inserita in fondo al progetto ma già inserita eh in fase appunto di progettazione. La comunicazione è importante se la comunicazione è mal fatta il progetto stesso a livello di diffusione di conoscenza può addirittura eh implodere quindi servono competenze specifiche e serve una eh consapevolezza degli strumenti che si stanno utilizzando ecco questa è anche la possibilità di taggare addirittura le note d'autore ossia quel quegli elementi che abbiamo eh già visto essere eh caratterizzanti gli esemplari quindi i pezzi ma anche i documenti quindi non soltanto i libri. Un'altra valorizzazione di tipo virtuale può essere fatta attraverso le mostre sia in accompagnamento a mostre fisiche che ehm che anche attraverso semplicemente il canale digitale. In accompagnamento a a mostre fisiche si può si possono poi utilizzare vari strumenti eh digitali questo per sollecitare eh poi i visitatori ad un approfondimento. Questo è un altro sono andata è partito. Questo è un altro progetto interessante eh della della biblioteca dell'università di Padova eh sul fondo Morelli che è stato inserito in domovio mostre eh virtuali online. Ovviamente tutto questo presuppone una politica di digitalizzazione e il riferimento eh obbligato senza scendere nei particolari è al documento ISLA che è stato tradotto in italiano nel eh duemila e quindici da un gruppo coordinato dalla professoressa Angela nuovo. Strumenti digitali ehm appunto questioni culturali sollevate, i fondi personali eh si collegano come dicevo all'inizio anche ad una nuova prospettiva che è quella della della terza missione quindi la scienza e l'università che eh diciamo scendono eh eh per andare verso la eh la società. eh una chiave per il eh progresso appunto si dice la scienza socializza eh invece noi ormai cominciamo ad essere consapevoli di come sia eh necessario appunto costruire e soprattutto sfruttare questa occasione di eh questa diciamo vetrina perché poi non facciamo probabilmente niente di diverso non andremo a fare di quello che già facevamo però abbiamo finalmente eh un modo una prospettiva per renderlo visibile ed evidente quindi la eh si tratta appunto di fare rete con soggetti eh i più vari che possono aver interesse alla trasmissione dei nostri contenuti, dei nostri risultati eh di ricerca e per questo i fondi personali si prestano molto bene. Mezzi e fini della terza missione sono il public engagement, il lifelong learning e la valorizzazione di beni pubblici prodotti appartenenti alle istituzioni accademiche e scientifiche collegando l'ambito socioculturale all'ambito economico collegamento che è fortemente sollecitato ad esempio dalla convenzione di Faro eh che appunto dedica proprio una ehm una parte rilevante a sollecitare eh diciamo una produzione di utile anche in relazione alla cultura ritenendo che questo non sia uno sviluppo ma eh piuttosto produca posti eh di lavoro e quindi economia. I livelli di pratica della terza missione anche da queste parole si comprende bene come i fondi personali si prestino sono eh livello metadisciplinare dove il legame al proprio ambito di ricerca funge da base per interagire con la società e con gli altri ambiti personale del ricercatore che si muove e porta la sua ricerca anche fuori dal territorio di riferimento della sua istituzione istituzionale quando il ricercatore assume dichiaratamente un ruolo di rappresentanza del proprio dipartimento o del proprio Ateneo. Cerco di andare veloce per concludere. Public engagement sappiamo insomma di che eh si tratta non mi soffermo ehm ci sono eh vari punti eh per la tenere presente che sono le risorse impiegate le attività svolte la produzione che ahimè eh deve essere testimoniata in numeri questo ci chiedono e eh una valutazione dei risultati degli effetti a breve termine e eh a parte a lungo termine. È un'occasione per dare maggiore visibilità ai nostri principali centri culturali eh accademici che possono reimpostare aiutare a reimpostare anche la strategia accademica in particolare le nostre eh biblioteche che possono andare attraverso eh la terza missione e anche con i fondi personali verso la ricerca di un'utenza eh più ampia e variegata. Le parole chiave eh sono ricerca, formazione, educazione, comunicazione, queste devono aiutare a stimolare il dialogo e il dibattito così come ci richiede l'open science e mi permetto di eh e qui concludo eh di ricordare che apparteniamo a quell'ambito delle scienze sociali e ehm sono proprio le scienze sociali e non intanto la tecnologia a garantire il dialogo tra storia, sociologia, politica e economia. Grazie. Grazie Fiammetta. Questo è il giudetto che fa il punto ancora una volta su una situazione eh di particolare interesse cioè l'approccio che il mondo diciamo come dire lì a coloro i quali si occupano di questo genere di prodotti eh prodotti culturali è l'approccio dicevo che il nostro mondo eh cerca di eh darsi dal punto di vista eh dell'organizzazione dal punto di vista della gestione. A questo punto io come ricordo come ricordate in apertura non abbiamo purtroppo l'intervento di Antonio Martorano che speriamo comunque di recuperare io dovrei eh aprire per uno spazio domande devo dire non siamo un po' in ritardo solo una ventina di minuto io quindi chiedo conferma a Stefano Allegrezza se posso aprire a questo spazio e avrei personalmente se posso una domanda per i relatori. Sì sì certamente prego. Bene ecco allora eh quello che abbiamo sentito eh eh relazioni di grande impatto e di portata generale abbiamo sentito questioni generali inerenti alla natura degli archivi o meglio dei complessi eh documentari personali nella relazione di Stefano Vitale abbiamo sentito di tematiche generali e esposte in maniera sistematica in merito alla produzione eh di eh archivi e complessi diciamo eh documentali di nuovo tipo eh nuova natura eh nella relazione di Gino Roncalli abbiamo sentito dell'approccio di un primo approccio alla conservazione e alla gestione di questi materiali nella relazione di Siammetta Samba. Ecco mi sarebbe interessante porre a tutti e tre eh i relatori un tentativo di un piccolo ulteriore sforzo piccolo si fa per dire di immaginare cioè eh nel medio periodo in questa situazione è un problema da archivisti qual è questo problema? Quello della tradizione cioè del modo in cui queste testimonianze potranno dovranno si vorrà o non si vorrà eh trasmettere alle generazioni future quindi per esempio quale il ruolo non so dei produttori o dei loro eredi quale il ruolo delle istituzioni pubbliche o quale il ruolo delle istituzioni culturali altre eh fondazioni istituti privati ecco se volessero brevemente lanciare immagini un'idea eh oltre diciamo il tempo presente e immaginare la possibile tradizione quindi al di là della conservazione nell'immediato eh di queste testimonianze chiamiamole così alle generazioni future in senso quindi verticale ecco non so in che ordine vorrete rispondere a questa a questa domanda diciamo sollecitazione forse nell'ordine in cui vi siete va bene sì no naturalmente è un tema eh di grandissimo interesse ma anche estremamente complesso perché molto dipende dalla natura delle diverse tipologie documentali di cui parliamo quindi eh in situazioni diverse probabilmente le risposte possono essere diverse eh quello che sicuramente io sottolineerei è che in tutti i casi che abbiamo visto eh c'è qualcosa di più della semplice eh conservazione eh di un patrimonio documentale ma nel momento in cui eh del resto lo sappiamo anche solo per la produzione di metadati ma eh ancor più nel momento in cui lavoriamo con contenuti digitali che in qualche modo eh ci cambiano in mano in molte situazioni eh noi abbiamo effettivamente una situazione non solo di conservazione ma di vera e propria produzione di contenuti questo cambia in parte eh una una missione professionale che eh è nata soprattutto sull'aspetto della conservazione della messa a disposizione per la ricerca dell'organizzazione della ecco nel momento in cui ci accorgiamo che gli interventi che noi facciamo sui contenuti eh eh questo è vero in generale ripeto ma ancor più nell'ecosistema digitale non solo interventi neutrali ma modificano eh gli oggetti con cui si lavora credo che questo aspetto eh anche in termini di competenze professionali di riflessione sulle eh istituzioni coinvolte ecco nel medio periodo credo che una riflessione su questo aspetto sia in qualche modo eh importante nel proprio nel nel capire eh alcune tendenze evolutive ehm per il resto naturalmente appunto le situazioni sono molto diverse rispetto a tipologie di contenuti diversi ehm la mia impressione è che un'altra tendenza rilevante di medio periodo sia quella di eh dell'emergere di nuove forme di organizzazione dei contenuti per la presentazione eh agli utenti questo forse eh riguarda più eh diciamo altre forme di mediazione documentale riguarda forse più chi utilizza certi contenuti per esempio per organizzare mostre per esempio per organizzare convegni ma diciamo queste ulteriori figure di mediazione in qualche modo eh a loro volta cambiano parecchio le tipologie di di strumenti di attività e quindi ho l'impressione che quello sia un altro campo in cui nel medio periodo eh ci saranno cambiamenti abbastanza rilevanti quelli proprio delle forme di organizzazione e presentazione al pubblico di alcuni materiali. Beh grazie. Non so se ci vuoi dire qualcosa Stefano su questo? Eh sì eh cioè diciamo quello su cui occorre secondo me riflettere un po' ehm per quello che riguarda appunto gli archivi di persona eh che è quello di cui ho parlato insomma in eh in ambiente digitale ma credo poi queste saranno tematiche saranno sviluppate nelle sessioni eh successive successive. Insomma io credo che ehm bisogna un attimo riflettere su alcune anche come dire idee e e alcune proposte eh che sono emerse anche in eh in altre realtà internazionali no? Cioè ehm già da 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 diverso tempo per esempio mi ricordo insomma presente come eh i colleghi australiani per 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 dirne per dire insomma alcuni colleghi che su questo fronte dell' anche della conservazione digitale sono molto molto attenti abbiano proprio eh eh riflettuto sul le 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 come dire il diverso rapporto che può esistere eh fra eh gli archivisti le istituzioni archivistiche e i produttori in ambiente digitale cioè il problema qui per quello che riguarda gli archivi personali eh insomma lo si dice per gli archivi istituzionali ma per gli archivi personali e credo che sia ugualmente vero è quello insomma di di essere capaci di intervenire eh eh sulla gli archivi che si suppongono che possano essere in qualche modo conservati che possano confluire all'interno delle archivi delle delle istituzioni di conservazione intervenire cioè per tempo cioè quindi farsi in un certo senso protagonisti di una politica eh eh di 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 ricerca e quindi poi di accoglienza degli archivi eh già nel momento in cui questi archivi in qualche modo sono prodotti ora mh questo eh diciamo mh appunto insomma alcuni articoli dei colleghi eh australiani che si interrogavano se questo in qualche modo non modificava la la l'essenza stessa dell'archivio per questo appunto come dire intervento prematuro che in qualche modo lo predispone già alla conservazione nel momento in cui eh viene prodotto come ehm appunto oggetto eh diciamo di ehm così in qualche modo eh semplicemente come proiezione di attività a del soggetto produttore quindi appunto con la spontaneità che si suppone che questo che quest'azione debba avere ma insomma io credo che le considerazioni che sono venuto facendo eh in realtà eh eh dimostrano come questo tipo di intervento anche diciamo per tempo eh eh sia un intervento che non 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 muta eh non non entra fondamentali degli archivi ed è da questo punto di vista secondo me una delle poche strade che abbiamo per salvare alcuni eh alcune cose io ho presente un un'esperienza appunto personale nel senso io ho avuto a che fare con l'archivio di eh Filippo Valenti il quale mh ho utilizzato il computer fino alla insomma fino alla fine eh e che però aveva l'accortezza di stampare tutto e quindi diciamo grandi cose grandi grandi cose non si sono perse insomma stampava tutte le mail per cui tutte le mail si sono conservate in realtà eh quello che non è stato conservato di di Filippo Valenti eh sono stati come dire stato il l'hard disk del suo computer è stata la sua produzione digitale eh il che forse non ha fatto perdere tutti i contenuti però ha fatto perdere dei metadati cioè eh si è persa la 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 per esempio la datazione di alcuni di alcuni suoi scritti insomma di alcune cose qui ha avuto a che fare ecco mh in situazioni come queste in cui già avviera l'idea del del versamento dell'archivio o nell'archivio o di di Modena si doveva intervenire ovviamente per tempo per salvare appunto anche questa proiezione digitale insomma io credo che su questo mh ci sarà questo convegno offrirà a parecchi spunti insomma ci saranno sicuramente delle delle relazioni eh interessanti però è un altro segno di come indubbiamente dovrebbero attrezzarsi le le istituzioni archivistiche come muta proprio da un certo punto di vista l'ottica a cui si guarda eh agli archivi anche in questo settore insomma non è non non si tratta più di raccogliere ciò che in qualche modo ci arriva si tratta di essere protagonisti di politica di conservazione attiva grazie Stefano e direi a questo punto la fermetta di dirci la sua ma molto molto rapidamente visti i tempi e i colleghi che mi scrivono di più sintetica possibile allora io ammiro da un lato la la positività la progettualità io ho veramente paura di quello che accadrà nei prossimi decenni eh a breve termine è è più facile nel senso pensare a strategie di descrizione e di conservazione che tengono conto anche di proprio della compresenza eh di di materiali di diverso ormai formato no di diversa eh pubblicazione e questo lo si può fare probabilmente lo si sta già facendo anche se come dicevo prima eh i casi sono pochi per permettere di eh inquadrare bene la situazione ovviamente vanno analizzati vanno salvaguardati e dobbiamo approfittarne proprio per capire meglio quello che sta accadendo ma sono sicura che che appunto questo convegno come eh anche insomma diceva Stefano Vitali ci darà maggior chiarezza ci farà maggior chiarezza magari ne potremmo parlare domani sera a lungo termine ho effettivamente ho effettivamente paura cioè se per gli archivi questo può eh verificarsi sul fronte delle biblioteche digitali laddove ritengo che il concetto biblioteca e questo bisogna sempre tenere tenerlo presente è un concetto complesso non è una raccolta di libri digitali o la raccolta delle proprie versioni eh di quelli che chiamavamo manoscritti stato di box eccetera il concetto biblioteca più complesso perché oltre che le raccolte vede come attori gli utenti e quindi come tramite tra le raccolte loro i servizi cioè la la il concetto di biblioteca già un'apertura di per sé al pubblico forse invece per l'archivio vale vale esattamente l'inverso cioè la 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 fruizione chiamiamola storica poi correggetemi eh voi eh arriva in una fase successiva cioè l'archivio si sedimenta eh naturalmente non per forza immaginando un pubblico mentre c'è già una sorta di eh attività eh egocentrica nel soggetto che accumula libri propri di altri c'è un'autoreferenzialità però quando l'istituzione l'accoglie già pensa al pubblico nel caso invece del dell'archivio che accoglie dei fondi archivistici pensa ad una conservazione di memoria eh insomma sono secondo me sono su due piani biblioteche e archivi però sicuramente possono dai dalle riflessioni specifiche relative trovare delle delle soluzioni poi anche per questioni eh comuni che però non sono del tutto comuni. Bene grazie grazie Fiammetto eh siamo con due minuti di ritardo io a questo punto metterei la palla in mano a Stefano Allegrizia visto che non ho eh indicazioni di altre domande o altre richieste di intervento Stefano ti lascerei volentieri la parola. Sì grazie Andrea grazie per la la parola. Sì grazie per la parola. Sì grazie per la parola.